Gli assassini vogliono che salviate Napoleone e neghiate il potere ai reni. Eliminate i tiratori sulla strada del primo console. Un'altra strada militare. Qualcuno la pagherà. Chi può essere? Sarà. È lui, è Bonaparte. È lui, è Bonaparte. Sai, o a te ci penso? Sì, no. Moderato, fuori! Tutto è benedazzo. Non basta. Non basta. Non basta. Non basta. VIA! Bastard! Pare sia Napoleone! Guarda questi qua. Guarda questi! Guarda! 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 Stanno mirando alla carrozza di Napoleone. Grazie per la visione!